Musica Buonasera, io sono Antonio Spada e qui accanto a me c'è Pasquale della Ragione e Fabio della Ragione noi siamo gli organizzatori di questa manifestazione a scopo benefico che si tiene qui oggi con una buona cornice di pubblico direi allo stadio Toni Chiovato di Baia un evento a scopo benefico i soldi raccolti saranno utilizzati per comprare dei giocattoli per il reparto di pediatria dell'ospedale La Schiana Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in primis vorrei ringraziare le istituzioni il Comune di Monte di Procida, il Comune di Bacoli e il Comune di Pozzuoli che hanno fatto sì che si svolgesse questo evento ringrazio l'assessore allo sport di Monte di Procida e l'assessore allo sport di Bacoli e l'assessore allo sport del Comune di Pozzuoli che si sono impegnati tantissimo per lo svolgimento dell'evento adesso do la parola all'assessore di Monte di Procida Tina Schiano Buonasera, io sono contentissima di aver partecipato a questa manifestazione perché per noi è sempre bello far conciliare lo sport quindi la festa con la solidarietà speriamo che questa sia una delle tante manifestazioni che si terranno perché questo è lo sport che a noi piace sì, anche per noi è un piacere poter ospitare qui oggi questo evento e abbiamo aderito subito con grande entusiasmo alla richiesta di Pasquale, di Antonio, di Fabio perché pensiamo che davvero lo sport sia un momento non solo per lo stare bene, per lo stare in forma ma anche e soprattutto un momento di socialità e di socializzazione penso che come amministrazione stiamo facendo di tutto per dimostrarlo abbiamo iniziato il nostro mandato andando contro tendenze quindi iniziamo ad investire sugli impianti sportivi prima fra tutti appunto il Tony Chiovato che sta diventando la casa non solo delle associazioni sportive che la utilizzano costantemente, sono più di 6-7 ma di tutti i cittadini che vogliono iniziare a vivere e tornare a vivere questo campo come che fosse casa loro e tornare a vivere qui facendo a vivere e tornare a vivere